C'era una volta il regno della C dolce. Il re Cho e la regina Cha regnavano con un scettro dorato. Avevano cinque figli, la C con la A, la C con la E, la C con la I, la C con la O e la C con la U. Appena nati, sembravano tutti uguali, ma non appena i bei bambini iniziarono a parlare, si scoprirono i difetti. Il primo genito, la C con la A, iniziò a parlare e disse, ca. E tutto il regno scoppiò a ridere. Il secondo genito e il terzo genito iniziarono a parlare e dissero, ce, ci, e tutte le ame o se no. Il quarto genito, la C con la O, iniziò a parlare e disse, co. E tutto il regno scoppiò a ridere, ugualmente l'ultimo nato. La C con la U, iniziò a parlare e disse, cu. Ancora una volta il regno scoppiò a ridere. Il re e la regina, preoccupati, chiamarono a rapporto i loro ministri. Si presentarono i ministri A, E, I, O, U. A, O, E, U dissero, non è colpa nostra. Il ministro E disse, eh, ma io non posso farci nulla. Il ministro I disse, I, ci penso io. Io sono come una bacchetta magica. E la I si infilò nelle tre sillabe e le trasformò in dolcissime ciambelle, cioccolatini e ciuccetti. E tutti vissero dolci, felici e contenti. Hurra, 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 hurra!